... allora andiamo a vedere un attimo l'alte chat Allora, proviamo a sottotitoli. Ah, io bravo. 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 e ora io c'ho la g sullo spazio guarda aspetta vediamo se si vede ho la g ok faccio e se voglio premere spazio faccio schiaccio con la parte sotto con la parte sotto del foglio comunque benvenuti raga 4 spettatori gg ok che dio se volessi non riuscirai a prendermela con l'indice perchè ah ti crasha la connessione ok 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 Vabbè per me non è un problema Adesso arrivo bro Tiro la laggata Bella descender Bella descender la lente sarà da flore la profilo no bro non sono in forno cioè vabbè che ho appena acceso beh dai ho fatto due secondi più di prima e poi sto anche male non sta proprio tanto bene quindi non so se per quello comunque mi devo ancora riscaldare sono sempre cioè sono più o meno così quando poi ho abbassato la sensibilità a tutte quelle cose vedete che entrino in disco oh guarda mi se ci sei ancora in stream e sono entrati in away in away stream oh bella 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 brother benvenuti ragazzi e 5 gli spettatori ha fatto il giro ma io parlo da live a un momento e poi non mi funziona più la connessione che la forma e che funziona poi invece la storia e dimenticato di staccare il wifi grazie al cazzo io non posso staccare perché sennò non posso usare discord 95 95 c'è avete visto 95 5 che cazzo impazzetto vede cazzo bene senza da samu un nuovo zeta samu non lo so non ho mai sentito anch'io o magari a qualcuno del team che aveva un nome diverso è che se a dj away vuol dire che più o meno perché dj è una cosa recente magari è un membro dell'accademia che non gioca spesso però non giocano male quelli dell'accademia ora è un ex del team scritta the summer chi mi fa passare bello abbiano forse night mi sembra cadardo live ora chiudo port night caro che scorso dalla daniel ongs vediamo chi c'è scritto grazie dalle longs per l'iscrizione brother 670 cm iscritto gg vediamo se c'è qualcuno c'è comment guarda io c'è flower sta giocando con comment e' anche domenica 1 bosta lobby io bella daniel ongs e grazie per l'iscrizione ancora 1 x 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 sono passato a 166, 12 eh... December ero a 178 178 o 177 non mi ricordo bene iscritti e dopo apro bs eravamo a 166 gg si a caso non so se qualcuno magari si è disiscritto proprio tutti di colpo però non penso proprio a tutti di colpo così c'è ma magari erano accanto che sono stati qui siamo tutti così tutti insieme tutti stai facendo so così a caso certo non riesco a trovare nel senso buono perché se c'è la bassa vado bene con la mira però faccio cagare editare a costruire se la se la se la alzo vado bene editare a costruire ma faccio cagare con la mira la 1445 x 713 ma che resse cosa 1445 x 713 1445 x 713 e che cazzone sui perché l'è messa? ma io ma dove l'è signor panso fortnite fortnite ah non è su fortnite perché è riscalata nella live nella live ho messo che da 1280 x 720 no da 1920 x 1080 scala in modo che mi fotte meno fps 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 8 10 10 10 8 10 11 11 grazie a marco santini per l'iscrizione bro vediamo perché non me lo conta vediamo grazie mille marco santini ancora per l'iscrizione bro non capisco perchè non ti conta l'ascom mi sono lottato una casa e mezzo ok io ho trovato un cazzo ho trovato una cappa e una mitraglietta non capisco il pompa asciutto non capisco non capisco non capisco è perfetto altro giorno raga sono arrivato in endgame nel torneo con un mio amico eravamo 39 nell'ultimo safe ma dai non potrei darmi oh cristo oh yes gg sa tutto sto culo oggi ho ho gg guys caputo in che è successo aspettate l'ottimo raga non ho visto che c'è scritto comunque grazie mille a chi c'è scritto tutto sta gente oh ragazzi sai per l'iscrizione grazie mille ok ok raga siamo a 172 iscritti raga mancano meno 8 ai 180 che è l'obiettivo di oggi vai ragazzo con le iscrizioni ok ecco ci sono un po' di tutto no e' un attimo raga chi c'è scritto grazie mille captain dragon per l'iscrizione bro raga quanta cazza di gente si sta iscrivendo oh fuck oh fuck oh fuck bella ninja hyper certo bella ninja hyper certo che puoi giocare basta che mi scrivi il nickname di epic eh fuck l'ho giocata male devo killarlo questo raga siamo a 174 iscritti oppure oppure mandamela a te bro questo è il mio nickname raga meno 6 iscritti così mi piace grazie simomaca0523 per l'iscrizione allora io se mi sblocco faccio 190 fps 100 fps però se mi sblocco vedete la live a scatti perchè frega tutti gli fps il gioco quindi blocca 60 e gioco tranquillamente blaze flavio federico blaze j flavio blaze j flavio rico 0 9 yt cazzo alex euro l'evoluzione se vuoi io mi scrivo il tuo canale ma perchè b sharp comunque bella ferri vediamo alex evolution io sono già iscritto al tuo canale non so perchè dolfin dolfin no delfin e vabbè però avrei la 2080 che cazzo posso farci no è vero che copre il coso dai bella ok aspettate un attimo raga c'è anche un non posso farti il provino non copre il il logo bro e comunque anche se lo copri c'è anche in alto a sinistro b sharp ferr come ti chiami raga siamo a 176 iscritti meno 4 raga si si che si può parlare cioè a meno che se se non vuoi che ti senti in live no ma io non posso farti i primi non te lo devo fare o desember o comment o artemis forse no artemis si che puoi parlare bro perchè non potresti no artemis no artemis non non stanno facendo stanno facendo un botto si chiede a tamiano però lui mi ha detto che sei un ex del team ma oh blaze 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 flavia fede e quindi non so se se te lo fa il provino boh chiede a lui bro raga andate a condividere la live ovunque perchè stiamo facendo abbiamo fatto otto iscritti in questa live parla parla non dai fastidio a nessuno bro anzi giochiamo anche meglio se parliamo bella matti benvenuto bro ti ricordo che se sei nuovo puoi iscriverti lasciare like e attivare la campanellina delle notifiche e allora gg per te bro non stai parlando aspetta forse ho tolto io la chat non stai parlando e 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 ci e 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 3C e 4Away il provino si fa così tu devi creare un video con clip di dove building creative dove vedete un attimo ragazzi, dove building creative dove fai giocate belle in pubblica e anche partite di scream e tornei se li hai fatti e fare nel titolo hashtag ed bravo si danni ronks, è tipo il tuo bella captain dragon, si ricambio anche tu però ricambio brother diamo su captain oh gg e bene c'è allora dragon poi chi c'è falcon io ricambio falcon sono già scritto il tuo 780 iscritti cazzara che stas questa cosa ho 8 spettatori gg non so perchè non ci faccio parlare bro si chi usa bbbs si usa bbbs eh no non si può fare spam mi dispiace si che mi sono iscritto capitano bella joseph io ormai ho ricambiato già con un bel po' di gente quindi basta però se vuoi scriviti bro oh fra chi è che scrive col profilo del canale no non fare così bro lasciali se vogliono fare il kit di camion con qualcuno eeeh si ragazzi io subito che sboccio ci siamo saliti the summer abbiamo fatto otti iscritti vediamo siamo arrivati a 180 no raga meno 2-2 iscritti 180 spammate la live in giro dai eh si si l'ho già detto hong code che ehi 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 in questo caso a play cazzo No, uno di vita, potevo farmelo Dai raga, meno due iscritti Dai Bro, questo qua ha poca vita se non ci ha curato Bravissimo, dude Bravissimo No, no, hanno fastidio a tutti È un tipo che mi ha chiesto di giocare, ha dato cari in solo, stavo facendo qualche partita Gigi Gigi bro, sei forte Gigi bro, sei forte Che cazzo è sto cosa, oh Chi è? Non mi ha fatto, lo sapevi? Cosa? Oh raga, buttata C'è la madre che fa pochini col culo, sai che sono in live? Ehm, ciao De Semper Ehm, e avevo otto spettatori, prima avevo otto spettatori Raga, buonasera Che è blazer? Blazer fa dj fede Ehm, è un tipo che mi ha chiesto di giocare con gioca Gigi, blazer C'ha 4 kg la città ci sono il concorso l'armadietto il cliente scena toccabili il disco e tra di disco ragazzi sento l'acqua o è bravo sto sto costo tipo qua fatti stessi almeno la vostra strada parte per questa smirata non è stato di play stiamo a scoperta c'è da come gioco 3 3 3 mamma mi sta facendo il primo e sto facendo il primo per me spazio modificazione fatta spazio l'alberto perchè qual'è alberto che non d'accordo raga entrati in disco c'è un'eco della madonna perca puttana io vi muovo non è vero c'è l'hai vista e vai che cazzo che sotto l'eco guarda quella che cazzo muta ci porta ma se non mi dite che siete dentro porca come se guarda quella lì del livello 31 vediamo allora vediamo chi si è iscritto che magari non ho visto allora le vista no cioè è figa ma neanche troppo e poi non mi ricordo ragazzo 5 kg l'altro po' la terza era coso era master key non ce l'ho oh raga l'hanno l'hanno sbordato no 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 ancora vivo no 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 è morto cosa? già 7 kills e le fattite con 5 di ida gg bro allora vediamo grazie mille mattie vale illusion per l'iscrizione è bello questo nome cosa? sembra che urla questo nome in maiuscolo capto in graco si sono venuti fuori tutti i ragazzi iscritti Bella Teos Abbiamo 5 spettatori bloccati Abbiamo allora 5 spettatori con una media Di 2 messaggi al minuto E 5 spettatori attuali Prima abbiamo fatto Un Oh si Troppo brutto vedere Forge Team Bella Vincenzo Sole Ragazzi siamo a 180 iscritti Bro se sai qual è la roba Raga spalli 180 per favore Detto Non voglio dire niente Gigi raga 180 iscritti Grazie mille Panzo non voglio dire niente Ma se vuoi ti mando il banner Ah anzi no non ce l'ho più il banner ufficiale Panzo ma che manecicione hai E che sono strecciate Ah Bro ma sei straforte Cioè sei sei strabravo Gigi raga spazzate Ehi da un muro c'è l'altro contro No no non lo prende Wow ma sei straforte No 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 Guarda questo è c'è l'edito A vero è bravo è bravo C'è c'è 7 kill e gg No ma io Mamma mia oh Panzo 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 Guarda se fai se sei chi non è chi sei forte Vabbè però è bravo Cioè se l'ha giocata molto bene Aveva 5 Aveva 5 Ma adesso non è che se Non è che se uno Cioè Fa tante kill ad etaplay E per forza L2 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 Si piace per forza L2 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 Eh Ma anche se non fa tanti kill Fidati che è l'edito Eh fatti Se non ha tanti kill Bro Te capisci che Eh che io ho provato A fare una partita da PS4 Ma che cazzo c'entra Ma sai che non so Se non la sai usare L'automira non funziona vero No ho fatto 8 kill Ho fatto 8 kill Spammando solamente L2 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 e non ho messo Eh grazie al cazzo Avrei avuto culo Cosa vuoi che ti dico Ma non è che se Uno spam L2 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 Fertissimo Eh grazie al cazzo Avrei avuto culo Spammati con le La Ah grazie per 180 sub Spammati se volete questa live Dolphino Lo user R2 Ah E non lo usa Flavio Flavio R2 non L2 Cambio aggettivo Adesso lo cambio Scimetto 190 Anzi metto Sì No metto No metto 200 Ciao De sempre Comment non ha detto niente No lo giuro Non ho bestemmiato Lo giuro Ti giro Lo giuro Non sono entrati a bestemmiato De sempre Non scherzo Non scherzo Ora Raga 7 spettatori Cos'è sta cosa Sei Io ne vedo 6 Vabbè 6-7 Ma perché uno sono io Oh quant'è brutta sta roba Non è meglio che stai 50 Dai de sempre No Perché lag Ora magari Esco battle Vabbè non importa Ora non lo so Quanto ping c'è Ma se sono in lobby Mi piace la figa O la vogliamo vincere questa Flavio Eh si chiama così Che cazzo posso farci Quanto è bello stesso Bro allora ho i Oh hai messo solamente la Ah no Eh la qualità è solamente in 480p Eh mi dispiace No lo li messo in là No io con giaccio l'ora Rai Arriva gente arriva gente raga Tuttelle Io ho bisogno di colpi pompa Io ho fatto vedere la mia faccia Se adesso la fai vedere pure te No No io l'ho vista No la madata su un gruppo Oh hai colpi pompa Bro Mi è fortunati che l'hanno visto ben per l'ora Adesso però la devo cancellare che troppo cringe Perché ho mandato tipo una foto troppo strana questo problema Qua qua Anche colpi cecco dude Più che altro mi piace la intro come stavo con il pugno sotto la faccia Grazie Sì appena la miniatura del video Cosa? La miniatura del video che hai fatto Quale? Cosa ti serve duro? Sì lo so lo so le ho visti Io andiamo andiamo Perché parli da solo? Perché lui mi sente in live Sono io che non sento lui perché non parla M possibili O comunque per il PC si deve parlare Pansopato Pansopato mamma Ma te ne hai visto? St你好 Come hai visto la fa Quattro che hai visto la falla Cosa hai visto la fa Ah vabbè Paglio raica che hai visto la fa alciò ciao c'è un amico che ieri tipo mi ha mandato la foto poi chiedo che cazzo fai e lui dice ah scusa la mia ragazza che palle state zitti cazzo perché è che è successo sta fai tappando porca e vabbè stessi napo 3 parola 3 185 iscritti mica ma mi spieghi te come cazzo li fai iscritti che chiesto fermo 84 da ci sono occhio che ti troppo di 90 grazie mille dopo atx per l'iscrizione ma siamo a 185 iscritti raga che cazzo e per favore dai non solo metto 84 però però possibili molto belli prendimi la scheda prendimi la scheda prima che vada via 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 14 14 15 14 15 15 ok ma il palazzo di mamma amici pure a quei stavamo aspetta e no era un ex del team allora aspettate un attimo anche allora fai fare due a loro e ma e io sono solo non è vero che la cosa per il messaggio la risica lo conosco la tournale come mai mi chiedi questa cosa mi chiede la legge tasso quando vorrei che il commento la sua moglie non sto alla gamba il microfono non so la carta d rifai per io che si vedrà anche a posto a volare adesso da fare il primo faccio guarda guarda io devo giocare con 5 dipinghi io frame lag in lobby per flower lag e basta 50 dipinghi poi se stavo libera per rompire eh allora gg bro allora iscriviti e quando attiverò le donazioni se vuoi venire allora l'alprevino è se hai un canale youtube devi fare un video hashtag hashtag rcfraway e con e con clip di pubblica creativi dove buildi e fai screen dove editi un po' di tutto e poi sei tu che stai lagando flower ah che cazzo oh commenta oh flower 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 mio caro no devo andare se stanno a cappa questa deve morire è un guanta solo che se mi davano salta fosse della capa non ci fa mica mi ricordi quello cazzo non ci potevi venire allora io pensavo stessi lagando io qua uno c'è pochissima vita zitta un attimo scusa ma vaffanculo con la lada dove si ma adesso me la compro mi compro quella meccanica non so ancora quale però me la cuore oh commenti quanto se lo riesce a far uscire oh commenti ti muovi stavo dicendo a quanto se lo riesce a far uscire quella che l'ha ammazzato ma è quello che l'ha finito l'ha ammazzato subito no no mi ha aspettato 10 secondi raga scusate mi sto provando a finire ho dovuto aiutare mio padre a fare qualcosa nella macchina cioè a comunque raga grazie mille per i raga 188 iscritti sono usati 180 189 iscritti la ragazza ma si può hai piacere 200 fare uno speciale ma va bene ma c'è ma che cazzo fa c'è ma c'è il pompa c'è tutte commenti dov'è la nessuna io qui tolò qualcuno vado a fare la pietra raga comunque grazie mille per i sei spettatori gg aspetta che mosa stiamo a 189 iscritti raga what the fuck non sei venuto twitter eh vabbè no è vero lei che è c'è con una k la prima volta che tassoni consiglio spettacchi qui c'è un piccino xd xd ok xd c'era che devo fare un provino non li puoi fare i provini mi ha detto di sempre che possono pericoglionare si, quindi puoi fare i profini eh, stai zitto bella Samu ama sei da play bello allora vediamo dopo Felix Alex non è scomparso a schermo quindi lo ammettiamo grazie Alex per l'iscrizione e mi è crashato fortnite perchè mi è crashato fortnite non lo so mi è crashato fortnite non lo so mi si è frizzato il computer no no mi è crashato fortnite basta no a quanta cento succede ora andiamo su like a volte vediamo se è giusto che su un attimo grazie ah ma vuole da che io so tra i primari 189 iscritti da mini leader comment eh da mini leader no ah perchè da chi mi spegni no no ma ora ma ora ma ora ma ora ma ora no perchè se no non andavo ma va quanto culo da tu 189 iscritti raga siamo partiti da 168 raga ci arriviamo a 200 e questo fa amare pure a me il canale per favore no è un pc da l'accia e fa cadere dell'accia e quindi c'è portare il pc no è è fisso però non è sembrato da me è sembrato è sembrato si è preso il posto ci si fa cagare però riesco a stimolare con 3 fps no con 60 ma eh vabbè che cazzo posso farci raga io sono povero ieri ieri tutti che mi dicevano ma puzza la bottiglia no si è che ti dicevano tutti non ci credo eh no adesso facciamo un po' di creativo e poi facciamo aspetta arrivo io a spaccare un po' no no non rompere il coglione tu fai duo con tuo amico eh no allora per fare provino ti dico io come si fa gli fai fare 3 partite solo di duo se se fa almeno 8 6-7 kill e vai passi a creativa che tanto ti battono tu e non ci puoi e allora faccio prima creativa e poi faccio solo 2 ma se ce lo faccio io e fanno 7 kill e poi vengono in creativa come fanno scusi fanno creativa e se lo fanno anche un altro forte 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 il mio 1060 6 gigasus prime 250m 5 allora io ho l'i5 anche io penso 7600 perchè boh non mi apre il betaplano non mi apre il betaplano non me lo apre mai cosa solo poi ho la 1030 la gt1030 che è una merda esiste esiste no non ti credo la 1030 non esiste allora esiste la 1010 si che esiste la 1030 coglione no joker non posso fare il primo per il tuo team perchè sono già dentro questo allora come armi mettiamo fuck e' più buro c'è è napo dai ma va a far culo c'è tu puoi prendi flower prendi me prendi qualcosa di più serio ma co no almeno con me non me li fanno fare problema ok ok e poi mettiamo il cecchino in quali la simplici semplici per fare il nostro ragazzi ma perchè hai contro il player non li facciamo fare con i contro il player del team di controllo per una volta ha fatto il primo fake a uno gli ho fatto per una volta ha fatto il primo fake a uno gli ho fatto per una volta ha fatto il primo fake a uno gli ho fatto un attimo le cose gli ho fatto 14 kill e ha detto no e non puoi entrare perchè pieno ultime era pure un team in finito e mi sono aiuterano da dietro ci sono due persone che sono contro fermati e poi si sparano dopo che mi hanno atterrato si sparano ma che cos'è cosa da 20 metri l'ha ammazzato col pompa come ti riesce a vedere c'è la scritta fucile pesante da 20 metri nuova di generazione per amici auto mazza porco 2 non c'è più mazza volevo chiudere mi dicevo in 2 in 2 vediamo chi c'è iscritto grazie mille vale basta per l'iscrizione siamo sei il cento novantunesimo sei il cento novantesimo iscritto quanti siamo a 191 adesso si giocherà meglio che perchè se siamo in un canale di un team è ovvio che non venga a fare il il provino per il tuo team o no in più c'è un'altra c'è un ticchi non penso che venga qualcuno o magari è anche meglio del nostro per senso il senso tra un'altra 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 una scuola ok ok non è è appunto ma potrebbe pure avere senso perchè comunque non ti ha notato in più però joker è un nome troppo usato quindi penso che sia penso che sia ma il cojoker il fratello di ciccio gamer il fratello di ciccio gamer no no il marco gioco questo fratello di ciccio gamer e parlo non ci si batte da andare la fratello di ciccio gamer a costa io c'entravo solo per farmi notare no fuck raga son che nabbo che son bella a tutti ragazzi essenziali sono ciò che il mio dico 792 the black e' meglio per me 7 and aspetta un attimo che devo farlo cosa non ho fatto il scopo non fino a voi con solo giocano siamo ragazzi 191 ischietti gg io sto avrò in questo caso il mio lavoro e spero che non me lo fottono non si sono stagliate per art e pack madonna madonna che cosa che cosa compa nuovo che cuno compa nuovo e non ciò anche io c'è una casa bellissima ho trovato delle vende ma delle vede io lo so pure quel di scudo e vabbè vaffanculo e c'è degli scudini per te che le donne a 10 vengono quella madonna non ma io sono abissima che palle amore amore non proviamo scusa ma oggi cioè a subito 8 suicidati un po' di sfiga così perché sfiga cazzo raga 192 iscritti raga ne mancano 8 8 fatti sono brutto da me e 115 in testa e 33 33 lo ammazzato questo c'aveva il bar e grazie a casa c'è un po' nuovi e c'è un tattico bianco ehi 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 raga ehi 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 einhen chiedeci ehi 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 ehy ehi ehi ma anche a tv t serventie ehi ehi minầu DR vai facciamo fare così al mio 3 si parte 1 2 3 in crepare indietro o mio 10 punto aiuto dottorino non facciare si può nuovo è in fai come ho fatto il tuo impazzito ha fatto ad ammazzarmi io no direi per un paolo poi ho fatto io ho fatto 100 300 ma per farti capire gioco a lui facendo qualcosa in testa come un attivo a colpa bianco stessa arma a me con questo qua faccio 117 raga potete ringraziare chi c'è scritto che io non vedo grazie no non voi dico che in chat che vede la live grazie amico grazie amico cazzo devo farlo vedere si deve entrare un disco guarda guarda grazie 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 metà bon hai visto già lo fatto un po' ma vaffanculo c'è gente c'è gente qua sotto c'è gente qua sotto allora vediamo chi si è iscritto raga grazie mille team c4 grazie mille alle basta per l'iscrizione raga raga siamo a 195 iscritti raga 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 oh c'ha l'arco eh attento che me lo devo prendere io l'arco ai ragazzi arriviamo in 200 tiACHOP pezzo di merca raga 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 io estс world iscritto perchè mi fa dal giro di cogl dysfunction no l'ammazzo o l'ammazzo o l'ammazzo io voi due ok sorry bro sonnabo tu sei forte cioè mi hai aperto il culo qui devo far solo 2 anzi la prima facciamo 2.1 drop di solito io nel mio team vecchio facevo o prima città allora io di solito nel mio team facevo o prima città o tilted però dato che adesso non è questo il mio team adesso ti droppi a tilted e nel mentre aspettiamo cosa mi dice december vabbè un palazzo specifico dovevo no dove vuoi 95 95 66 quindi potreste andare o a corso o a tilt è in questo caso un altro tilt mcc cos niente niente s 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 e non ci arrivo c'è la terza di merda qua c'è una mitraglietta che mi hanno fregato oh qua c'è il caccio con cui fai il nostro sono sotto mi è dilassato qua c'è uno e io mi sparano io ti sago c'è il disegno di qualche arma ah beh però adesso te l'hai lasciata cosa? andiamo a lotarla si c'è gente qua c'è andiamo sono morto eh io devo andare ciao devo andare? si ciao bella prima da perché non esce ciao 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 ciao